8Gallery ha deciso di donare dei kit scuola dopo un premio a scuola che era un premio che ha fatto internamente ma ha deciso di donarli al mondo del volontariato. Insieme al centro servizi per il volontariato Volta abbiamo individuato quattro associazioni di volontariato che hanno al loro interno dei doposcuola per bambini o hanno attività comunque legate all'infanzia. Abbiamo individuato queste quattro realtà associative, realtà associative di provincia che riceveranno migliaia e migliaia di penne, matite, fogli di carta che serviranno a loro per tutto l'anno. Un bel contesto e soprattutto una bella iniziativa quando chi fa attività commerciale pensa anche al mondo della solidarietà e su questo la regia di Volta è stata strategica quindi siamo molto contenti che il mondo profit si occupi del mondo della carità. Sicuramente per noi è un'iniziativa di rilievo, siamo comunque lieti di dare seguito all'iniziativa premia scuola con la devoluzione di questi kit scuola a favore delle associazioni, della scuola individuata dal centro servizi Volto e questo ci permette, almeno ma auspicchiamo, che ci permetta di creare un legame con il territorio andando praticamente a sostenere le scuole che formano i nostri ragazzi e le associazioni che si impegnano e che sono sul territorio per aiutare la collettività.